Ciao, io sono Sara e credo che la mia storia vada la pena di essere raccontata. Nella vita faccio la ballerina e l'insegnante di danza e da tanti anni soffro di dolori cervicali dovuti a delle ernie. Ero arrivata ad un punto in cui il mio collo non riusciva più proprio a muoversi con dei dolori fortissimi. Arrivo ad Agora Medical con un collarino in credula di poter risolvere il mio problema pensando che il mio problema potesse risolvere solo con dei farmaci. E invece facendo solo otto sedute di attività fisica attiva nel mio collo, il mio collo ha ripreso completamente a lavorare come prima. Incredibilmente, come se non avessi nessun male, ho ripreso la danza a 360 gradi e quindi voglio veramente ringraziare Alberto e Rossella che mi hanno seguito.